Ci troviamo all'Odeon Bistro a Firenze questa sera per presentare una nuova auto. Allora, questa è la nuova Lexus RC-H, motorizzata ibrida come tutti i nostri prodotti Lexus, motorizzazione benzina ibrida, vettura da 223 CV tra la potenza del motore termico e la potenza del motore elettrico. È una Coupé quattro posti, caratteristica principale è un ibrido, quindi motorizzazione abbinata al termico, quindi benzina ed elettrico. Disponibile già adesso nei concessionari? Andiamo su un prezzo abbastanza alto? No, disponibile da gennaio è già ordinabile, questa è un'anteprima, la vediamo anche noi oggi per la prima volta. Disponibile da gennaio, i prezzi vanno dai 49 ai 55 dell'allestimento Executive F Sport.